Passi di pace è il percorso che per questo mese di gennaio propone il vicariato Clusone Ponte Nossa. In cosa consiste e qual è un po' il significato di questi appuntamenti? È stata un'amplificazione della giornata del primo gennaio, giornata mondiale per la pace. Qui nella nostra zona si faceva da anni il discorso della preghiera interreligiosa cristiani e musulmani, aperta anche a altre religioni per il tema proprio della pace. Quest'anno, in occasione dei vent'anni dell'ufficio diocesano per la pastorale migranti e da una sollecitazione dell'azione cattolica vicariale, è nata perché non fare un mese per la pace almeno, tutta la vita, tutti i giorni devono essere per la pace, però dedicare questo mese a un modo un po' più intenso al tema della pace. E allora abbiamo colto fondamentalmente tre occasioni. Uno è il primo gennaio, giornata della pace con il discorso del Papa, l'altro è il 19 gennaio che è la giornata mondiale per i migranti e per i rifugiati, e anche lì c'è un ulteriore discorso del nostro Papa Francesco, e un percorso di formazione vicariale per tutti gli operatori pastorali, per tutti i cristiani che vogliono, anche i non cristiani, però chiaramente rivolto in modo particolare ai cristiani e operatori pastorali della parrocchia e Caritas in particolare. Per cui, cogliendo queste occasioni, alla fine le date sono diventate più di una. Allora, abbiamo due lunedì, lunedì 13 gennaio e lunedì 20 gennaio, questo momento di formazione presso l'oratorio di Clusone alle 20.30, dove, guidati dall'ufficio diocesano pastorale migranti, faremo un incontro sul tema dei nostri emigranti, quindi quanti italiani sono andati a cercare lavoro, fortuna all'estero, e come, in qualche modo, noi da qui li possiamo ancora seguire, come la Chiesa li segue, ma anche come chi abita qui, sono i figli, le mogli, piuttosto che i fratelli, mantengono i contatti con questi italiani all'estero. Il primo incontro verrà appunto affrontato attraverso la presentazione di un libro, simulando contentezze di andare in America, è la storia di alcuni emigranti dell'Alta Val Brembana, ne abbiamo comunque anche qui nella nostra zona, parecchi che sono emigrati, soprattutto dalla parte più alta, dell'Altipiano, dell'Alta Valle. L'incontro del 20, invece, sarà una riflessione, partendo un po' da quello che il Papa ci suggerisce per la giornata mondiale, sugli immigrati che sono venuti in Italia, che sono un po' ospiti dei nostri paesi, accolti, con quanta risorsa sono per noi e quanto eventualmente problemi possono essere. La terza iniziativa sarà il sabato 18 gennaio, sera, alle 20.30, partendo dall'auditorio imparocchiale di Ponte Nossa. Riprenderemo un po' quella che è iniziativa del dialogo e della preghiera interreligiosa, per cui i cristiani e i musulmani ci troveremo nell'auditorio per fare una presentazione sul significato del migrante nelle queste due grandi religioni. Faremo poi un cammino breve da Ponte Nossa all'oratorio di Ponte Selva e concluderemo a Ponte Selva con un momento di preghiera dove i cristiani pregheranno in modo cristiano, i musulmani in modo musulmano, ma per la pace, anche tenendo presente questo tema delle migrazioni. Il mese di gennaio presenta un'altra occasione, che è la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, l'abbiamo inserita nel programma, è dal 18 al 25 gennaio e ogni parrocchia poi gestirà questo momento, secondo le indicazioni che dà la Chiesa, che dà la CEI, però in modo un po' personale che ogni parrocchia lo farà a modo suo.